In questo numero di Hightech e Innovazione Magazine Digital Markets Act, cosa farà Apple? Whirlpool, elettrodomestici sempre più smart e sostenibili Samsung presenta Galaxy S24, AI a portata di smartphone Negli ultimi giorni uno dei temi più importanti nel mondo della tecnologia è stato sicuramente il lancio dei nuovi smartphone di Samsung che ha introdotto la nuova famiglia Galaxy S24 La novità più rilevante è l'uso massivo e massiccio dell'intelligenza artificiale a bordo dei propri smartphone con una fortissima collaborazione intrecciata con Google e questo forse è uno dei dati più interessanti l'intensificazione del rapporto tra Google e Samsung in chiave di competizione ad Apple Vedremo come il mercato recepirà questi nuovi prodotti in arrivo nei prossimi giorni Altro tema invece molto importante che si apre nelle prossime settimane è quello del rapporto tra Apple e l'Unione Europea perché con il nuovo DMA Digital Markets Act in arrivo Apple dovrà assolutamente adeguarsi alle nuove regole che prevedono anche il fatto di non creare degli ambienti chiusi che non siano aperti a tutti gli operatori del mercato Questo vuol dire che presto troveremo nuovi app store su iPhone che funzioneranno con applicazioni proposte da terzi e non solo perché a quanto pare Apple è intenzionata anche ad aprire l'uso del proprio trasmettitore NFC per permettere di fare pagamenti con iPhone non solo con Apple Pay ma anche con altre soluzioni Insomma si apre davvero una nuova era molto importante in termini di trasparenza e anche di interoperabilità tra i diversi sistemi operativi che è stimolata proprio dalle nuove leggi europee Ci troviamo la prossima settimana e intanto ben trovati e grazie per averci seguito da Italpress e da Digital Club Elettrodomestici sempre più smart e amici dell'ambiente E' l'obiettivo della multinazionale Whirlpool che da oltre 50 anni punta sulla sostenibilità Ne ha parlato in un'intervista di Barbara Millucci per l'Italpress l'amministratore delegato di Italia e Iberia Paolo Lioi Sulla sostenibilità stiamo facendo molto sia in termini generali ma anche molto specifici Da 50 anni pensate c'è un ufficio per la sostenibilità quindi quando ancora non si parlava di sostenibilità in Whirlpool fa parte del DNA dell'azienda perché ci stiamo lavorando da molti anni E dove si trova questo ufficio così capiato? Si trova nel nostro centro a Benton Harbour con sedia anche in Europa e dove abbiamo l'headquarter in Italia, Milano Senta, questi elettrodomestici sono sempre più intelligenti, smart, interconnessi in che modo declinate proprio l'intelligenza artificiale? Anche su questo avevo una grande esperienza perché molti si ricorderanno Whirlpool lui era il sesto senso, il sesto senso da anni aiuta a ottimizzare le risorse quindi utilizza soprattutto quello che serve in quel momento la macchina quindi capisce qual è il carico e utilizza acqua e energia giusto per quel carico risparmiandoli quindi in questo senso da tempo stiamo lavorando ad algoritmi che ottimizzino al meglio ogni ciclo piuttosto che ogni tipo di cottura o raffreddamento di cibi Samsung Galaxy S24 ha fatto il suo debutto Galaxy AI promette di rivoluzionare l'esperienza mobile aiuta infatti ad abbattere le barriere linguistiche e facilita la vita quotidiana le novità presentate dal colosso coreano sono veramente molte l'intelligenza artificiale per la prima volta su uno smartphone Galaxy il nuovo processore Snapdragon 8 di terza generazione sviluppato ad hoc per supportare tutte le applicazioni anche le più esigenze dal punto di vista di performance piuttosto che il gaming gli schermi con una luminosità incredibile visibili in qualunque condizione di luce una fotocamera che ha portato l'anaitografi all'estremo quindi fotografie e video chiarissime e definitissime in qualunque condizione di luce ci racconti un pochino meglio quindi l'intelligenza artificiale dei nuovi device l'intelligenza artificiale generativa è un argomento molto chiacchierato però è purtroppo ancora pannaggio di pochi per la prima volta con Galaxy S24 la portiamo dentro uno smartphone che ha le caratteristiche hardware e software per rendere l'interazione con lo smartphone potentissima ma molto semplificata per esempio noi potremmo tramite Galaxy AI fare delle telefonate o comunicare anche tramite testo le varie applicazioni di chat e di messaggistica con interlocutori che non parlano la nostra lingua in tempo reale quindi posso chiacchierare con una persona coreana, giapponese o da e per moltissime lingue oggi gli smartphone sono le nostre fotocamere di elezione con Galaxy AI possiamo migliorare ancora di più questi momenti per esempio andando a eliminare, ingrandire, cambiare degli oggetti, delle fotografie e l'intelligenza artificiale rigenerà la foto capendone perfettamente il contesto in modo da non lasciare spazi vuoti o altri elementi che non voglio nella foto